Il presidente della regione toscana Eugenio Gianni ha visitato l'ospedale delle scotte di Siena dove sono stati aggiunti otto posti di terapia intensiva riservati ai malati di covid e 19 già presenti. In questa occasione il presidente ha fatto il punto sull'andamento dell'epidemia in Toscana in zona arancione ma con la provincia Ripistoia, Cecina, Castellina Marittima e Viareggio in zona rossa e 40 comuni con le scuole chiuse. In tutta la Toscana noi abbiamo 1300 posti covid occupati, a ottobre scorso arriviamo ad averne più di 2200 e siccome la Toscana è un sistema integrato è evidente che si assestano fra ospedale e ospedale. Gianni ha spiegato che sono in arrivo in Toscana importanti forniture di vaccini contro il covid. Domani arriveranno 40.000 dosi di vaccino AstraZeneca, arriveranno nei prossimi due o tre giorni altre 30.000 dosi di vaccino Pfizer che a poco a poco l'argi dei vaccini, noi ne abbiamo già somministrati ad oggi 385.000 in Toscana, possa in qualche modo rallentare quello che può essere il corso della diffusione pandemica. Gianni ha ricordato che anche nel 2020 il mese di marzo fu quello peggiore per l'emergenza pandemica. Spero però che subito dopo Pasqua, come l'anno scorso avvenne una decrescita per fattori ambientali, allora non avevamo nemmeno la capacità di capire come curare, fra vaccini e fattori ambientali passato questo mese, mese e mezzo ci possa essere una maggiore capacità di tenuta. Per quanto riguarda le nuove restrizioni a cui sta lavorando il governo nazionale per arginare l'incremento dei contagi, Gianni ha dichiarato che intende rispettarle. Il governo ha questo compito nelle calamità che è il compito principale, quindi io sarò molto rispettoso nei confronti del governo. In Toscana vedo che in realtà il sistema che si chiama chirurgico, ovvero una Toscana che con i dati è in zona arancione, ma che porta a delle restrizioni laddove ci sono fucolai più gravi, per ora mi sembra che sta funzionando per la stabilità, quantomeno. Io ritengo che se a questo il governo riterrà sul tutto il territorio nazionale di prendere provvedimenti, c'è solo da rispettarli. Grazie a tutti.